Ciao, sono Marta, tu sei? Dante, apicoltore principiante. Qualcosa è andato storto, immagino. Eh sì, ho avuto qualche problema con le api operaie perché i bonifici con le buste paga non sono arrivati puntuali. Ah, ok. E tu vorresti essere la regina del mio alveare? A Pungiglione come si è messi? Vado a parlare con i sindacati. Meglio. Sì.